La trasmissione rinnovo è convocata per la prosecuzione del ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 857 Damiano ed abbinati in materia di flessibilità pensionistica. Segnalo che pur avendo l'audizione in carattere informale ne è stata autorizzata la trasmissione sullo UOV TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno prevede l'audizione di rappresentanti di Cobas e Confsal. Ne ringraziamo i nostri ospiti per la loro cortese partecipazione. Segnalo che sono presenti. Per Cobas Riccardo Laragione e Pietro Castello e per Confsal stanno arrivando Fedele Ricciato e Achille Massenti. Avverto che per lo svolgimento dell'audizione la Commissione ha a disposizione circa 20-25 minuti. La relazione potrà quindi avere una durata orientativa di circa 10 minuti in modo da lasciare spazio ad eventuali quesiti dei deputati e per le repliche. Ne ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti per la loro presenza. Do loro la parola. Chi intende intervenire? Prego, deve alzare e schiacciare. In merito del disegno di legge, sicuramente il discorso della flessibilità sui termini pensionistici è un aspetto positivo, soprattutto perché viene eseguito la riforma Fornero che è ottimamente allungato di 5-6 anni sia la pensione anticipata che quella di anzianità. questi criteri di flessibilità hanno sicuramente influenzato sui lavoratori in quanto nel prolungarsi di questi periodi lavorativi ha reso veramente difficile la situazione nel contesto dei lavoratori. i punti principali secondo me per quanto riguarda la pensione anticipata a 41 anni questo permetterebbe sicuramente di avere dei limiti già fissi ridotti rispetto alla legge Fornero e permetterebbe anche di risolvere tante questioni tipo quelle degli esotati di quota 96 per esempio della scuola che passando questa proposta di legge con 41 anni sono quasi tutti pensionabili mentre ancora debbano aspettare altri 2-3 anni quindi in parte penso che sia utile perché risolverebbe queste questioni in sospeso e create dalla riforma Fornero. Per quanto riguarda invece le modalità di penalità e premialità per chi volesse uscire anticipatamente o rimanere sul posto di lavoro sì sono delle possibilità che permettono ai lavoratori di poter scegliere però sono sempre a carico dei lavoratori nel senso che le penalità vanno già a influire su dei redditi su degli stipendi che sono già bassi e bloccati da anni quindi queste banalità secondo me sono secondo noi sono un po' troppo troppo penalizzanti anche perché i lavoratori che usciranno con 35 anni in futuro saranno tutti i lavoratori che avranno già 66 anni perché l'entrata in lavoro sarà già molto spostata più là. Il discorso della diminuzione di queste penalità in base alla determinazione dei lavori usuranti e non anche questo dovrebbe essere ben rivisto perché per lavori usuranti ce ne sono molti che dovrebbero essere ben definiti e che non vengono considerati tali. Io mi riferisco anche al comparto scuola di cui faccio parte e il lavoro nelle situazioni attuali comincia ad essere abbastanza determinante e pesante. Certo noi come Cobas non disdegniamo provvedimenti di macchiace di una qualche soluzione dei problemi più plateali più delle ingiustizie più specifiche che si sono realizzate in tutti questi anni ma quello che ci preme dire e disegnare è il contesto in cui questo avviene questo avviene in un Parlamento che negli ultimi trent'anni è ferocemente impegnato nella distruzione dello Stato sociale, nelle conquiste che la Costituzione prima aveva sancito e poi i lavoratori erano riusciti a rendere esegibili questi diritti in un trentennio che è stato da qualche storico definito il trentennio d'oro insomma. Quindi ci troviamo in questa situazione in cui c'è permanentemente un'azione di governo anche con la legge di stabilità oggi che travasa ricchezze e danaro dal reddito da lavoro ai redditi da capitale ai profitti. In particolare per esempio stiamo assistendo adesso negli ultimi anni una particolarità di questo governo cosa che altri governi non hanno realizzato, un saccheggio delle ricchezze dell'Inps se pensate che voi che gli 80 euro che vengono dati come defiscalizzazione o gli 8.060 euro che sono stati dati nel 2015 ai datori di lavoro che facevano contratti diversi sono tutti soldi che sono stati presi direttamente dall'Inps e molto spesso proprio dicendo questa volgarità assolutamente ignobile che si tratta di opera di defiscalizzazione lì si tratta di un'opera di decontribuzione quando non solo la Costituzione ma la Corte Costituzionale ribadisce almeno una volta all'anno che i contributi sono salario definito dei lavoratori quindi sappiamo bene che quando un datore di lavoro gli viene defiscalizzato 8.600 euro sono 8.660 euro che non paga perché erano destinati a pagare i contributi dei lavoratori allora e chiaramente in questo clima generale che si sta portando avanti quindi qualsiasi legge diciamo si voglia fare che rientri nell'alvio di questa ideologia di cancellazione dei diritti è una legge che nel migliore dei casi si definirebbe a casa mia un tappullo perché non riesce minimamente a scalfire né a realizzare come si vorrebbe per esempio una flessibilità che sia reale che non sia effetto di una leggina ma sia effetto di un sistema previdenziale complessivo come quello che si era realizzato dal 1996 fino al 1992 con le prime avvisaglie di attacco da parte del Ministero Amato che consentiva questo tipo di flessibilità consentiva questo tipo di scelte dei lavoratori senza tenere diciamo far conto sulle penalizzazioni perché ancorché si sia detto e si sia tanto criminalizzato il sistema di conteggio delle pensioni col sistema retributivo in realtà la colonna del sistema retributivo era anch'essa contributivo non è che non esistesse la misurazione dei contributi per il pensionamento era però all'interno di un contesto che permetteva in parte un recupero della ricchezza sociale che i lavoratori avevano prodotto e che invece viene completamente devoluta al mondo delle imprese al mondo della finanza e nessuno più può pensare che con una parte della pensione avrebbe avuto anche questa funzione diciamo di recupero e di gestizia sociale che magari nella vita lavorativa non aveva avuto anche qui c'è una piccola ancora per poco perché purtroppo i nostri tempi una piccola chiosa da fare diciamo su questa legge è il fatto che anche qui sembra che si voglia demonizzare e in particolare diciamo colpire il retributivo tant'è vero che i conteggi che si fanno per il taglio della pensione di chi è anticipo si fanno sulla parte del retributivo e non sulla parte del contributivo in sostanza noi crediamo che in questo paese si debba pensare del tutto diversamente lo stato sociale oggi è una grande risorsa anche dal punto di vista economico è l'unica domanda aggregata che si manifesta nei paesi occidentali nel nostro paese come negli altri paesi soddisfare quella domanda significa riprendere un ciclo di economia fiorente come l'abbiamo vissuto negli anni 70 e che in gran parte è dovuto non tanto al boom economico ma al boom economico che si è intrecciato con un progresso sociale e civile che ha visto crescere come non mai i diritti la loro esigibilità le pensioni la scuola l'abitare tutte cose che mano a mano vengono colpite che fanno precipitare il paese anche dal punto di vista economico perché queste cose hanno anche questo esito la ringrazio dunque sono arrivati ringraziamo per la loro presenza fedele Ricciato e Achille Massenti per Consal chiedo a chi dei due prego prego Achille Massanti ma noi come Consal abbiamo sempre ritenuto la questione della uscita che ha fissato in modo troppo rigido e troppo elevato la fornero un errore per i lavoratori per il paese e quindi anche basta pensare al fatto che abbiamo una delle età pensionabili più alte d'Europa e il mancato ricambio generazionale che in alcune specie in alcune professioni è evidentemente un handicap in termini anche di risposta di servizi al paese quindi abbiamo sempre chiesto che questo punto in particolare della fornero fosse rivisto ovviamente questo punto noi avremmo spiccato la flessibilità di uscita senza penalità evidentemente ma questo farebbe parte di un libro dei sogni sto dicendo in questo momento quindi con realismo è chiaro che è assolutamente secondo noi necessario riuscire a avviare questo percorso contenendone diciamo la perdita per i lavoratori in termini tra virgolette ragionevoli più contenuti possibili in questo senso ci sembra così facciamo riferimento all'ipotesi che forse per i primi due anni si potrebbe usare un'aliquota leggermente più bassa rispetto al 2% della tabella usata per gli anni successivi è chiaro che apprezziamo il fatto che comunque ci sia un disegno di legge che muove il problema da basi ragionevoli realistiche voglio dire è chiaro che come dico lasciamo da parte il libro dei sogni e pensiamo a dare una risposta reale alla gente evidentemente questo apprezzamento però ha una osservazione di fondo in parte è stata anticipata il dire che si fanno salve le materie faticosamente usuranti qui si usa particolarmente faticose e pesanti è chiaro che è un'edizione che è vero risente però di una terminologia che in molti casi non ci sembra adeguata le esigenze di flessibilità della gente cioè pensiamo ad esempio ad alcune categorie ha citato la scuola voglio prendere lo stesso esempio nella scuola dell'infanzia data l'età sono nonno quando porto il nipotino a scuola e mi trovo che non lo riceve una persona di 65 anni che dovrebbe giocare con lui tenerne a bada 25 e fare queste attività ci sembra che evidentemente questo crei qualche piccolo problema tra virgolette e certamente quindi il riferimento ad alcune categorie che erano pensate soprattutto sul privato evidentemente non è che vogliamo eliminarlo ma è un riferimento che evidentemente è troppo stretto troppo rigido per alcune categorie quindi auspiceremmo che in sede di sviluppo del disegno di legge questo aspetto possa venire considerato proprio perché questa flessibilità deve rispondere alle due esigenze certamente aiutare il lavoratore aiutare i giovani voglio dire al ricambio generazionale ma anche consentire un servizio che in alcuni casi con età eccessive diventa onestamente poco produttivo in termini di risultato finale ecco quindi noi ci sembra che questo tipo di ragionamento c'è un ragionamento che somma l'altra negatività questa rigidità ci ha di fatto bloccato il turnover che quindi non solo per l'età troppo alta del tetto finale fissato rigido ma anche col blocco del turnover evidentemente ha in tutti che diciamo che la pubblica amministrazione è vecchia che questo e quell'altro gli vogliamo dare gli strumenti moderni però è chiaro che non gli facciamo formazione perché soldi quasi sono pochi perlomeno fino ad ora sono stati pochi prendiamo uno che evidentemente è di un'altra generazione lo obblighiamo a stare lì con strumenti moderni non è che facciamo un ottimo servizio né alla pubblica amministrazione né a quella che viene detta burocrazia quindi è chiaro che l'apprezzamento va anche al fatto che la legge soprattutto nella relazione introduttiva ma si desume anche qui è rivolta a tutti i lavoratori mentre ad esempio per quanto leggiamo la legge di stabilità che non affronta in questi termini e lo affronta in termini che noi riteniamo non condivisibili il problema perché anche l'opzione donna per carità di Dio bisogna permettersela perché quando una persona ha lavorato più di 35 anni e se la dico a grandi linee e perde un terzo di pensione perché usa l'opzione donna deve essere uno che solo può permettere mi scusi uno che non deve campare di pensione perché se deve campare di pensione evidentemente che perdere un terzo di pensione su pensioni parliamo di quelle della media ragionevole non di quelle cose è evidentemente un lusso che in molti casi la gente non può permettersi quindi abbiamo gente in servizio demotivata nuovi che non entrano servizi non efficienti in molti casi cioè nella realtà produciamo più danni che vantaggi in nome di un beneficio economico tutto da dimostrare in termini reali perché voi stessi dimostrate che una flessibilità calibrata uso questo termine potrebbe essere una flessibilità sostenibile anche sul piano economico quindi è chiaro che per noi c'è un forte apprezzamento perché avete in questo disegno di legge si affronta il tema in termini generali e non in termini di pubblico di privato i lavoratori sono lavoratori avere la sfortuna di avere come datore di lavoro lo Stato perché ogni tanto è una sfortuna evidentemente è stata forse una fortuna ma ormai sta diventando una sfortuna doppia tra contratti che non si fanno adeguamente i stipendi che vengono superati da categorie privato che fanno i contratti evidentemente almeno su questo piano questo disegno di legge affronta nella sua globalità il problema quindi in questo senso io non voglio allungare il tempo evidentemente con la preghiera di se questa strada può andare a sostituire la flessibilità che c'è detto nella legge di stabilità visto che sembra esserci a invarianza di spesa si dice disponibilità ad affrontarle evidentemente potrebbe essere una strada da auspicare di poter tra virgolette andare a incrociare e sostituire una soluzione che dall'altra parte sembra assolutamente inaccettabile grazie quindi abbiamo e registriamo da ambo le parti mi pare di capire un'apertura rispetto alla proposta di legge anche se ci sono evidentemente dei secondo voi dei piccoli punti di caduta ad esempio rispetto alle penalizzazioni ricordiamo che comunque per quanto riguarda opzione donna il governo ha semplicemente avvallato fondamentalmente quanto della legge della legge Maroni poi mettendoci anche una clausola di salvaguardia per cui effettivamente le perequazioni la sapete insomma l'avete studiata come se non meglio di noi l'ultimissima cosa che volevo che volevo dire è questa rispetto alle penalizzazioni una proposta di questo tipo senza penalizzazioni significa abrogare di fatto la manovra fornello e quindi è una cosa che effettivamente ottima ah beh sì noi fermo festa è qui assolutamente quindi prego al collega Tripiedi chi c'era prima chiedo scusa c'era quel microfono c'era il collega Tripiedi prego grazie per essere qui e volevo chiedervi un parere non vi sembra che sia un rischio dare un tra parentesi bonus a chi ha 70 anni di età e chi continua il percorso lavorativo e si va a penalizzare invece chi ha 35 anni di contributi e magari 62 anni di età c'è un un gap che secondo noi va eliminato perché spingere le persone a lavorare fino a 70 anni con una con un premio noi lo rivediamo lo troviamo alquanto pericoloso paradossale anche che chi ha 40 anni di contributi venga penalizzato magari ha 58 anni di età o 60 anni di età venga penalizzato nonostante abbia 40 anni di contributi questo vuol dire non ringraziare la persona che ha contribuito alla ricchezza del paese quindi viene penalizzato se vuoi è così se no lavora ancora secondo noi questo è assolutamente un controsenso io voglio riportare qua tutta la commissione un caso che proprio ho riscontrato l'altro giorno un signore che mi dice io ho un tumore 39 anni di contributi e 58 anni di età non riesco ad andare in pensione come mai non si prende in considerazione anche questi casi questo è il primo punto quando io ho sentito dire a noi ci piacerebbe non avere penalizzazioni però sarebbe un libro dei sogni io penso che quel libro dei sogni non è vero che sia un libro dei sogni ma sono cose fattibili perché basterebbe la volontà politica noi pensiamo che sono stati spesi 10 miliardi per dare 80 euro a chi il lavoro ce l'ha e non sono stati dati quei soldi a chi non riesce a entrare nel sistema previdenziale abbiamo visto con gli esodati che cosa si è creato e ancora oggi nonostante tutti i problemi abbiamo ancora un avanzo di esodati quindi sembra quasi che non ci sia la volontà di mettere freno a questa disastrosa riforma fornero come l'agnecchi nell'intervento precedente ricordava hanno usato i pensionati per pagare i debiti che sono stati creati da altri e a noi questa cosa non ci va bene noi vogliamo dare una risposta certa a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e niente volevo solo sapere cosa ne pensate di queste incongruenze che ci sono nel testo grazie grazie ci sono altre domande non ci sono altre domande prego per chi vuole una replica assolutamente prego è vero quello che dice l'onorevole il discorso degli anni si rilaccia al discorso dei lavori usuranti e dai lavoratori precoci cioè quelli che sono entrati a lavorare a 18 anni e che quindi hanno maturato i 40 anni di servizio e quindi perché debbano aspettare un'età con la proposta di legge a 41 anni andrebbero via senza nessuna penalizzazione è chiaro che questa è una cosa negativa è anche vero quello che dice l'onorevole che non ci sono essenzialmente dei problemi tecnici economici anche se siamo in un periodo di crisi ma è semplicemente questione di volontà politica io faccio parte anche del comitato quota 96 della scuola e ho partecipato a tutti gli incontri degli esotati e per quanto riguarda la scuola sono stati sempre emendamenti presentati e bocciati in continuità non presentati delle volte con promesse che si veniva risoluzione in altro modo e poi sempre per un discorso economico venivano fermati quindi è proprio vero che è una questione solamente economica siamo in ristrettezza economica ma non si può basare il valore il lavoro delle persone in base solamente a una questione economica anche secondo me al contributo che portano alla società quindi 40 anni di lavoro e l'esperienza che portano non può essere sottovalutata cioè non si può solamente basare in questioni economiche bisogna fare anche delle scelte politiche che cambiano questa società e non solamente su criteri meramente economici scusate evidentemente l'ho premesso sindacalismo vuol dire anche realismo secondo me inseguire soluzioni che anche per noi ottimali tornare alle norme precedenti alla Fornero e chi di noi è forza sociale non sarebbe d'accordo evidentemente però chi non sarebbe d'accordo ovviamente è ovvio però è chiaro che inseguire l'ottimo a volte può essere nemico del bene purtroppo abbiamo visto che tutte le volte che abbiamo avuto delle proposte di legge da 496 in poi che comportavano oneri poi sono cadute allora è chiaro che se la politica ha la forza la possibilità di trovare soluzioni più avanzate per dare le risposte che le onorevole auspica si figuri noi non solo saremmo d'accordo saremmo d'accordissimo evidentemente però il timore reale qual è che siccome devo dare una risposta possibilmente a della gente che sta chiedendoci la flessibilità e girando tra i lavoratori devo dire che il fatto della flessibilità è una delle richieste maggiori dopo il problema particolare di quota 96 che noi troviamo andando in mezzo ci vado abitualmente per la mia attività evidentemente è chiaro che avrei difficoltà a spiegare che per inseguire la soluzione che anch'io ospicherei per carità di Dio che bello ci ha litigato al tempo che la Fornero anche nelle audizioni forse anche se lo ricorda anche abbastanza pesantemente però è chiaro che oggi è chiaro andiamo a prendere atto che c'è se c'è lo spiraglio per introdurre la flessibilità è ovvio prendiamo lo spiraglio e facciamo un gradino alla volta questo onestamente è il ragionamento di realismo che faccio come sindacato poi se possiamo fare tutto l'ascensore è tutto veloce per andare all'ultimo piano al grattacielo in un colpo perché la politica se ci fosse la possibilità certo non si può dire che il sindacato le vorrebbe però temo che non ce ne siano le condizioni oggi grazie ci sono altri interventi considerato che abbiamo 30 secondi perfetto non ci sono altri interventi va bene non ci sono altri interventi ringraziamo i nostri ospiti per le posso rispondere un momento proprio pochissimi secondi io direi che se uno non tiene conto del contesto e non si ferma mai a riflettere su quello che sta succedendo succede che un tentativo come questo può volgersi al contrario il nucleo centrale della proposta sembra che sia il ricambio generazionale nel lavoro uno dei rischi impossibili in questa situazione è che invece si aumenti il numero delle persone che vuole rimanere sul lavoro per poter recuperare pensione e poter recuperare stipendi questo è fortissimo per esempio nella scuola dove nelle donne alla mancata contribuzione fa immediatamente richiesta l'omento dell'età pensionare noi non abbiamo grazie non abbiamo e chiudiamo non abbiamo esattamente questo tipo di feedback nei confronti di molte categorie che settimanalmente incontriamo direttamente qui in commissione non vorrei sempre restare sul tema però ad esempio il caso di opzione donna è un caso indicativo nel senso che quella ad esempio è una scelta volontaria da volontaria effettivamente addirittura l'Inps va a quantificare in 2 miliardi se non ricordo male la copertura per i prossimi anni quindi se ne saranno 36.000 forse che volontariamente usciranno dal mercato del lavoro favorendo inevitabilmente anche una flessibilità in entrata grazie